Rappinata la filiale della banca BPM di Figline Valdarno, in pieno giorno, intorno alle 16, tre soggetti travisati si sono introdotti nella banca e si sono fatti consegnare il denaro sul posto ai carabinieri di Figline Incisa, indagini in corso. Batterio New Delhi, da novembre 2018 ad agosto 2019, 75 casi accertati, uno anche in Valdarno, al CRT, presentata un'interrogazione sul tema in Regione Toscana. Visita dell'ambasciatore del Lussemburgo in Camera di Commercio di Arezzo e Siena, partnership e accordi commerciali, i temi affrontati, moda oro e agroalimentare ai settori di mercato interessati per la provincia di Arezzo. Al Via Le Scuole, a Cavriglia, sarà l'anno dell'ambiente con iniziative volte al tema, lunedì inoltre l'inaugurazione di due scuole completamente ristrutturate a Castelnuovo dei Sabbioni e nel Capoluogo. Questa mattina ha fatto tappa a Montevarchi Janus River, il ciclo amatore in solitaria nel mondo che da vent'anni gira senza mai tornare a casa alla terra. Accolto dall'assessore post-fortunato ha raccontato la sua storia. A due anni dall'alluvione di Livorno, in città una fiaccolata per ricordare le otto vittime che la furia della natura provocò, presenti le istituzioni, soddisfatto il sindaco per i risarcimento arrivati alle famiglie negli anni.